A Chiavenna procedono i lavori di preparazione per la cerimonia durante la quale domenica prossima, 6 giugno, Suor Maria Laura Mainetti verrà proclamata beata. L'appuntamento è allo stadio comunale di Via Falcone e Borsellino. A presiedere la cerimonia di beatificazione, il prefetto della congregazione delle cause dei Santi, Cardinale Marcello Semeraro, assieme al Vescovo della Diocesi di Como, Monsignor Oscar Cantoni. Una macchina organizzativa oramai in moto da tempo ed un programma che il Comitato per la Beatificazione ha già stilato in ogni minimo dettaglio. L'accesso al luogo della cerimonia sarà permesso esclusivamente a coloro i quali saranno in possesso del pass. Dalle 13.30 è prevista la possibilità di accedere all'area in cui si svolgerà il rito di beatificazione. A partire dalle ore 15 poi un momento di preparazione con letture, prove di canto e la proposta di alcuni testi che aiutino a ripercorrere la vita della religiosa che esattamente 21 anni fa, il 6 giugno del 2000, fu barbaramente uccisa da tre adolescenti per un rito satanico. Alle ore 15.50 poi l'avvio della processione dei concelebranti a cui farà seguito, alle ore 16, la celebrazione eucaristica. Ci apprestiamo a vivere una giornata decisamente storica per la nostra città, per la prima volta una figura di beato a Chiavenna. È stato un grande lavoro e continua tuttora per le ultime ore di preparazione, tantissime persone coinvolte sia a livello lavorativo che tantissimi volontari. A loro il nostro più grande e sentito ringraziamento. Suor Maria Laura sarà sicuramente un profilo per tutti coloro che credono, per il futuro, ma sono certo sarà anche un riferimento per la vita della nostra città. Fra pochi giorni avremo anche la beatificazione di Suor Maria Laura che vedrà un'altra volta in tutto il mondo presentata questa zona attraverso una persona che ha dato tanto a questa valle. Previste per la cerimonia presenze da tutta Italia e dall'estero. Il martirio poi ha aperto la figura della sua testimonianza di martire e questo ha colpito ancora di più, la sua morte. Ma la morte non è stata altra che un dispiegarsi di come lei ha vissuto. Il dono di sé l'ha vissuto non in quell'istante in cui è stata uccisa, ma l'ha vissuta quotidianamente. Una donna felicissima, era sempre sorridente, qui a Chiavenna la chiamavano Suor Sorriso. Ma perché era felicissima? Non perché avesse chissà che cosa. Lei diceva, sono così felice perché sono certa di una presenza, quella di Cristo risorto. La diretta della cerimonia di beatificazione di Sor Maria Laura Mainetti verrà trasmessa da TSN sui canali 172, 695 e 186 e sulla pagina Facebook della nostra emittente.